Allora per questo weekend vorrei consigliarvi la lettura di un libro che ho letto recentemente mi è piaciuto molto e si legge molto rapidamente perché è una storia che ti cattura ed è scritta molto bene. L'autore è Davide Morosinotto che è un bravissimo autore per ragazzi e il romanzo si chiama Voi, edito da Rezzoli. È la storia di due amici che erano tre ma una si è dovuta trasferire, due amici che vivono in montagna e che amano arrampicarsi e vivere all'aria aperta ma improvvisamente il loro piccolo paese sulle sponde di un lago è luogo di un evento strano che ci vorrà un po' per capire e che metterà il paese in grosso subvuglio con gli adulti che non capiranno nulla come spesso succede e i ragazzi che dovranno salvare la situazione in maniera anche abbastanza drammatica. Ve lo consiglio davvero. Voi Davide Morosinotto.